Musica Nuove fortissime scosse di terremoto in Emilia, la prima di magnitudo 5,8 stamani alle 9 con epicentro in provincia di Modena e altre 2 intorno alle 13 di magnitudo superiore a 5. Sono 10 finora le vittime accertate e tanti i crolli di edifici già danneggiati dal sisma del 20 maggio. I comuni prossimi all'epicentro sono Medolla, Mirandola e Cavezzo. All'origine della nuova scossa potrebbe essere la rottura di una nuova faglia. Intanto sono salite a 10 le vittime accertate del sisma, 3 a San Felice nel crollo dell'azienda Meta, 2 a Mirandola, 1 a Concordia, un anziano colpito in strada da un cornicione che si è staccato dal tetto di un palazzo, 1 a Finale. Alla lista si aggiunge il parroco di Rovereto di Novi. Un altro parroco a Carpi, dato inizialmente per morto, sembra essere rimasto invece ferito nel crollo di una parte del Duomo. Tra le vittime anche due donne a Cavezzo, una seporda dalle macerie del molirificio Malavasi. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha reso noto che la forte scossa è stata avvertita in tutto il nord Italia, in alcune regioni centrali e persino in Austria. Invito tutti i cittadini ad avere fiducia. L'impegno dello Stato sarà garantito perché tutto avvenga nel modo migliore ed efficace. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Monti, riferendosi al nuovo sisma in Emilia. Sono certo che supereremo questo momento, ha concluso. Dico chiaramente che questa nuova scossa che infligge ferite all'Emilia Romagna non coglie le istituzioni impreparate. Assicuro che lo Stato farà tutto quello che deve fare e che è possibile fare nei tempi più brevi per garantire la ripresa della vita normale in questa terra così speciale, importante e produttiva per l'Italia. Grazie.